Com'è l'autogrill in Corea? In Corea, a differenza in Italia, ci sono vari negozi e ristoranti dove puoi gustare vari tipi di piatti, tra cui cucina coreana, il donkassu e il yudong. Ovviamente il bagno è normale. Una cosa tipica in cui si manda di solito agli autogrill è questa qua, ovvero biscotti alla noce, richiamato hotukwacha. Vendono anche gli hotog coreani e vari street food. Una volta entrati c'è il pionigiam, ovvero conviene store 24 ore e vari ristoranti di varie tipologie, tra cui kimbap, noodles, donkassu, ovvero cotoletta, eccetera. I contorni sono self-service e li puoi prendere quanto ne vuoi. Una volta mangiato, porti qui il vasoio. C'è anche un microonde e acqua gratis. Questa è la lista del menù. Noi abbiamo scelto un piatto che prendono molti i coreani quando vengono all'autogrill, ovvero l'yudong. Paghiamo qui e andiamo a ritirare il cibo. Con il numerino scritto nello scontrino, aspettiamo il cibo. Ed ecco qua, è un'esperienza da provare.